Con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario prevista per domenica 15 dicembre la ferrovia adriatico San Gritana offre nuovi servizi. Dopo otto anni i treni San Gritana tornano a San Benedetto del Tronto. In due ore il lupetto di casa San Gritana collegherà San Benedetto del Tronto a Termoli attraverserà così tre regioni Marche, Abruzzo e Molise per una percorrenza di 151 chilometri fermando in 23 stazioni. Ma non è solo questa la novità offerta dal nuovo orario ferroviario della FAS. Novità illustrate questa mattina in una conferenza stampa dal presidente di San Gritana Pasquale Di Nardo e dall'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra che inizialmente rivela i rapporti attualmente non idilliaci che intercorrono tra RFI e San Gritana. Ma questa ulteriore chiusura per l'ingresso del treno San Gritana a Bologna lo considero, l'ho definito anche prima, un ostracismo inconcepibile, inaccettabile da parte della regione Abruzzo. Noi abbiamo fatto tutte le prove tecniche per essere abilitati all'ingresso a Bologna, c'era un'interlocuzione che sembrava ormai aver definito questa cosa e invece nascono ancora problematiche tecniche. Io lo considero, lo ripeto, un ostracismo inaccettabile, adesso è stata dita dal presidente Di Nardo, lo accompagnerà l'autorità del libero mercato, la concorrenza, ne parleremo ancora con il ministro Lupi e cercheremo con forza di chiudere questa partita. La San Gritana ha fatto tutte le prove tecniche, ha il parco rotabile, ha le maestranze qualificate, non si vede perché non ci si possa collegare e dare un servizio agli abruzzesi con l'alta velocità che, ripeto, è a Bologna. Oggi invece abbiamo fatto questa conferenza stampa per annunciare in più di 110 mila chilometri nuovi di ferro della San Gritana che porteranno quattro nuovi treni sia da Vasto a Pescara che poi da Pescara a San Benedetto. Quindi in ossequio alle richieste del pendolarismo che sono aumentate in questo periodo e anche non soltanto dando quattro nuovi treni ma un treno di qualità perché sapete che i treni della San Gritana sono molto apprezzati dall'utenza abruzzese e quindi un'ulteriore possibilità dei nostri pendolari, dei nostri studenti di avere più occasioni di viaggio e più orari a disposizione. Questo naturalmente l'abbiamo fatto di concerto stando vicino alla San Gritana con l'assessorato ai trasporti però ripeto questo è un ulteriore passo in avanti. Si parla di 110 mila chilometri di ferro in più offerti dalla San Gritana e l'avevamo detto stiamo lavorando da anni per emancipare. il lato ferro della San Gritana. Ogni mese lo sapete, lo vedete, sono qua ogni volta che veniamo parliamo solo di cose fatte però credo che questa sia una cosa molto importante. Questa l'abbiamo fatta, continuiamo l'interlocuzione con Bologna ed altre interlocuzioni di cui poi magari verranno fuori nel prosieguo della nostra attività, l'interlocuzione verso Foggia, l'interlocuzione magari con Ancona per collegarci quando partiranno i treni dell'alta velocità. Però ripeto, tanta carne al fuoco, però noi quando vi chiamiamo è soltanto per dirvi che c'è qualcosa di concreto che abbiamo fatto. Sul Mona Carpinone, Avezzano, Roccasecca, adesso anche questo di niego per arrivare a Bologna centrale. Come sono in realtà i rapporti tra RFI e la regione Abruzzo, Assessore? Sono negativi, sono negativi e lo avete visto anche nella riunione che abbiamo avuto l'altro giorno, non vi sarà sfuggito che c'erano le forze politiche abruzzesi, c'era l'Assessore di Trasport però c'era anche il presidente della Sangritana al fianco dell'Assessore in quanto poi nell'interlocuzione tecnica noi abbiamo un'azienda regionale che fa ferro e di cui ci vogliamo servire delle competenze, non solo dei servizi. Sono situazioni diverse, il ministro lo avete visto, lo ha detto, ha stimolato e ha redarguito il RFI perché la chiusura dell'Avezzano Roccasecca che è un problema di costo della manutenzione straordinaria che è di competenza esclusiva del committente governo e di RFI perché noi abbiamo il contratto con Trenitalia e non con il RFI il ministro la considera ingiustificata e ha anche recepito le nostre istanze in quanto per noi quella linea è una linea produttiva, è una linea importante del pandolarismo abruzzese e in questi giorni vedremo il prosieguo perché dopo l'intervento forte autoritario del ministro già sono fissate in questa settimana nove riunioni. Sul Monacarpinone c'è un'interlocuzione aperta con la regione Molise però là si tratta di un'altra linea, si tratta di linee turistiche, bisogna costruire un percorso diverso, non sono le stesse cose. Questa della lunga percorrenza che ancora ci impediscono di entrare a Bologna è veramente qualcosa di inconcepibile, credo che l'autorità della libera concorrenza dovrà intervenire con forza e credo che forse alcuni vertici di alcune società collegate al mondo FSS non si sono resi conto che l'Europa, il governo italiano e la regione Abruzzo si sta andando verso un regime di mercato, di concorrenza. Queste chiusure e questi monopoli non esistono più già in alcune leggi e non vedo perché debbano esistere solo nella mente di qualche burocrate. Presidente Di Nardo, con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario la Sangritana rimodula gli orari e integra anche le corse proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei pendolari? Il risultato di un serrato confronto tra il committente della regione Abruzzo, gli utenti e quindi i pendolari e chi utilizza il mezzo di trasporto e il Bettore, che è il ferroviario Adriatico Sangritana, siamo stati capaci e credo lo verificheremo nei prossimi giorni con l'avvio delle attività proprio da lunedì e credo in corrispondenza con quelle che erano le richieste dei pendolari, di chi utilizza e usufruisce dei nostri servizi. Passiamo da 34 a 38 treni giornalieri, un'offerta completamente nuova in considerazione del fatto che partiamo da San Benedetto e arriviamo a Termoli, copriamo questo tratto unendo tre regioni il Molise, l'Abruzzo e le Marche e all'interno di questa offerta, mi pregio e mi fa piacere poterlo dire, all'interno di questa offerta c'è tutto il lavoro e anche il sacrificio di tutta parte anche delle maestranze. È un'offerta che non varia sui costi fissi, una rimodulazione del servizio fatta insieme alla regione, insomma un piccolo punto a favore di quella che è anche il contenimento della spesa. La volontà di Sangritana è quella di arrivare a Bologna Centrale, RFI dopo una prima autorizzazione pone adesso un diniego. Come intendete procedere? Il terzo anno consecutivo di un'autorizzazione per Bologna-Arcoveggio, Bologna-Arcoveggio è una stazione fuori da Bologna Centrale, la nostra ambizione era e resta quella di poter offrire un servizio ai nostri cittadini, a quelli che non hanno la fortuna di abitare nell'unica città, Pescara, dove ferma la lunga percorrenza, era e resta il principio di poter offrire servizi ai cittadini che da vasto a Giulianova potessero prendere un nostro mezzo per raggiungere Bologna e raggiungere l'alta velocità. Non ci interessa di certo andare ad Arcoveggio, non ci sono servizi sufficienti. Nel mese di luglio io feci un'affermazione che ribadisco, c'era l'intenzione da parte di RFI per una mail che abbiamo ricevuto, l'ufficio di programmazione lo ha ricevuto, me lo ha consegnato, l'ho mostrato oggi dove addirittura si parlava di dove potersi era la ricerca della sistemazione del parco rotabile che era a Bologna Centrale. Questo mi ha fatto ben sperare, così oggi non è, a novembre hanno ribadito il concetto che Bologna-Arcoveggio è all'interno del più ampio spazio di Bologna Centrale, cercheremo in tutti i modi di far valere i nostri diritti, ma nello stesso tempo da quattro anni, cioè da quando abbiamo fatto le richieste, l'offerta è completamente cambiata. Parrebbe che fra qualche settimana dovrebbe esserci un'offerta di altre imprese ferroviarie da Ancona verso Bologna, nulla ci vieta di ripensare anche questa nostra offerta verso Bologna, attestarci magari ad Ancona e offrire comunque lo stesso servizio. Voglio dire il concetto così come abbiamo questa mattina con l'assessore Morra ribadito, in sostanza noi ci candidiamo ad offrire servizi, non a vincere primati, non abbiamo nessuna intenzione di fare bracci di ferro con importantissime imprese ferroviarie che hanno dimensioni, investimenti, costi e personale cento volte maggiori delle nostre. Ma in un regime di liberalizzazione annunciata ma mai realizzata, credo che il monopolio non possa avere residenza in questo Stato né in questa regione.